Ciao a tutti da Sport 2.0, ci troviamo di fronte al Game Center, il quartier generale dei Warmaster Games che si svolgeranno a Torino dal 2 all'11 agosto. Si tratta dell'ottava edizione delle Olimpiadi dei Master, vale a dire gli atleti sopra i 30-35 anni. Sono più di 19.000 gli atleti che parteciperanno e provengono da più di 100 paesi. Ma per quali sport? I Warmaster Games coinvolgono più atleti delle Olimpiadi estive. Per l'ottava edizione saranno 30 le discipline coinvolte per oltre 165 specialità. Saranno addirittura 13 i comuni della provincia di Torino che accoglieranno le gare e ospiteranno i vari atleti. E' proprio un secchione. E se volessimo fare di nomi importanti? Beh, nell'atletica, nel lancio del giavellotto potremmo seguire il lettone Dainis Kula che nel 1980 alle Olimpiadi di Mosca ha vinto la medaglia d'oro. Altrimenti, rimanendo nell'ambito degli anni 80, altri ex professionisti sono quelli della Nazionale di Pallavolo italiana nelle categorie Master 50 e Master 55. Parliamo della giornata di oggi. Per chi fosse un amante dello sport della lealtà, consigliamo di seguire il rugby a Grugliasco, al Campo Angelo e al Bonico. E se volessimo invece fare un'esperienza un po' diversa? Beh, si potrebbe andare al Palatazzoli che è un impianto in cui si svolgeranno le gare di tennis tavolo e badminton. Where are you from? Perth, Western Australia. Perth, Western Australia. Che sport farete? Parla a vola. Volleyball. Brasilia. Playing hockey. Belarus. Minsk. How old am I? I'm 77. Karate. Siamo dalla Russia, però abbiamo studiato bene l'italiano, quindi parliamo molto bene. Bala, Canestro. Badminton. Field hockey. Golf. Squash. Bad carrying. I'm a support crew. Beh, allora non ci resta che augurarvi un buon divertimento. Buon divertimento! Ciao! Sab Mercedes�il. Ciao! Ciao!